Buonasera a tutti, mi presento, sono Massimiliano Rubin, responsabile vendita Italia per OML, Officina Meccanica Lombarda. OML fa parte del più ampio gruppo SMW Autoblock e ci occupiamo, il focus nostro è quello di occuparci di tutte quelle che sono le soluzioni statiche per presa a pezzo, work holding, per fresatura. Quindi partiamo dai prodotti più storici che sono le morse, modulari, sistemi in multipresa, sistemi a punto zero. Tra tutti i nostri prodotti vantiamo anche nel nostro programma il sistema Sintagrip, un sistema brevettato per le prese a pezzo di pochi millimetri e sistemi APS. In questa occasione, in questo spazio, volevamo parlarvi del nuovo prodotto che stiamo presentando qui in Emo. Ed è un prodotto, si chiama TDM, Torque Dye & Mold, ed è un sistema di bloccaggio innovativo e brevettato per il mercato degli stampi. Quindi ci rivolgiamo prevalentemente, in modo anche forte, a quello che è il mercato degli stampisti. TDM è tutta una linea di prodotti, di soluzioni innovative, appunto dedicato a tutte quelle aziende che fanno del loro core business, quella che è la costruzione stampi. A questo proposito vi facciamo vedere un breve filmato che appunto va a mettere in evidenza quelle che sono le caratteristiche di questo nostro sistema. Ha il proprio interno delle ganasce autocentranti e autocompensanti, con un'ampia superficie di presa, solo 3,5 mm di bloccaggio, di rotazione per effettuare il bloccaggio. La ripetibilità che offre questo sistema sono i 5 micro, importantissimo per una precisione, per avere un'alta ripetibilità e anche le forze di tenuta sono molto molto elevate. Grazie. 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 E' importantissimo essere così performanti dal punto di vista di apertura e chiusura per avere la massima performance di rapidità nel quando si va a sostituire un componente. Come sappiamo bene oggi i tempi sono un fattore determinante e essenziale per avere un'ottimizzazione di quelle che sono le fasi produttive. La ripetibilità è un'altra caratteristica di assoluta rilevanza quindi abbiamo una ripetibilità inferiore ai 5 micron che è la classica ripetibilità che abbiamo anche nei nostri sistemi APS 0 point. E' anche questo un fattore determinante per chi fa lavorazione stampo e deve mantenere sempre sotto controllo le toleranze e avere anche la possibilità qualora ce ne fosse l'esigenza di poter riprendere un particolare e poter correggere magari quegli errori che sono stati fatti durante le fasi di lavoro. Avendo questa ripetibilità inferiore ai 5 micron con questo sistema diamo questa ulteriore caratteristica di poter in qualsiasi momento togliere il pezzo, misurarlo, riprenderlo nuovamente con la fase di lavoro e andare eventualmente a correggere quelle che sono quelle quote critiche che magari nella prima fase di lavorazione non sono state eseguite correttamente. Caratteristica importantissima è la forza che diamo con questo prodotto, una forza di tenuta sino a 100 kN, importantissima perché per lavorare stampi è necessario avere una grande rigidità. Grande rigidità vuol dire avere performance di taglio e portare a casa il pezzo il minore tempo possibile, questo è un altro fattore rilevante per andare a fare ottimizzazione del processo. Quindi forza di tenuta fino a 100 kN quando vado a sostentare, quando sono invece in lavorazione orizzontale, quindi con un carico a sbalzo, questa forza viene ridotta fino a 30 kN, quindi 30 ton, sono sempre un gran valore e soprattutto con lavorazioni su asse orizzontale. L'ampia superficie di contatto alle griffe fino a 210 gradi, questo vuol dire che con il nostro sistema a due griffe compensanti andiamo a fasciare completamente il perno, il perno è la parte che vado a integrare direttamente sul mio stampo dove vado a eseguire le mie lavorazioni, avendo questa ampia superficie di contatto non vado a far altro che andare sempre a aumentare la rigidità e la tenuta del mio componente durante la fase di lavorazione. Anche questo è un fattore assolutamente di primo ordine per avere lavorazioni ben eseguite, toleranze molto strette e avere anche performance di taglio, rigidità e anche usure contenute degli utensili. La forza di bloccaggio, quindi quella che è proprio la forza che esprime il modulo durante la fase di chiusura di stafaggio del pezzo, arriviamo fino a 18 kN esercitando sulla vite di bloccaggio del modulo solo 20 Nm, quindi l'operatore si trova in una condizione di assoluto comfort quando va a utilizzare i nostri sistemi, esercitando appunto solo una forza così minima di 20 Nm, ma al contempo la forza che invece viene applicata di bloccaggio è fino a 18 kN, quindi quasi 2000 kg per ciascun modulo, questo sempre per garantire la massima stabilità durante la fase di lavorazione. Le griffe di bloccaggio sono autocentranti e autocompensanti e su questo argomento poi andremo a vedere anche quello che è un altro accessorio importantissimo dell'ampio programma del prodotto TDM e andremo a vedere come queste griffe autocompensanti lavorano in sinergia con il perno flottante e fa sì che questa soluzione dà la possibilità di bloccare anche un particolare che ha una deformazione molto elevata e lo può bloccare senza andare a esercitare o a conferire delle deformazioni. Queste sono appunto le principali caratteristiche del prodotto TDM. Il prodotto TDM sono moduli ad attuazione meccanica, quindi con l'attuazione a vite, due le taglie principali 88 mm e 48 mm. Abbiamo sia moduli completamente cilindrici che anche moduli con la piastra base per poter essere integrati direttamente sul pallet macchina, quindi con la piastra ovale, oppure il modulo completamente cilindrico che viene interfacciato su piastre normalmente che vengono chiamate reticolate, quindi un reticolo passo 50 dove si sfrutta la modularità del reticolo e posso sfruttare questo sistema in modo dinamico, lo posso spostare nello spazio dove voglio. Questo che vediamo ora è il video del perno flottante che è assolutamente indispensabile come soluzione per gli stampisti perché va a definire quella situazione di lavorazione pre-tempra, post-tempra, quindi prima fase, seconda fase, dove devo andare a bloccare un particolare che è stato deformato da un trattamento termico e vediamo come il perno flottante va a soddisfare questa particolare esigenza. Quindi il perno flottante è brevettato, ha un indice di compensazione di più o meno un millimetro, come dicevo ideale per i pezzi dove ha una situazione di pre-tempra, post-tempra, quindi il componente viene deformato e soprattutto viene deformato anche la parte filettata del componente con una deriva flottante che è circa più o meno due gradi e mezzo. L'unica cosa è che purtroppo non è partito il video. Il video ci mostra sostanzialmente, eccolo qua, forse lo vediamo, ci mostra il contenuto del perno e la tecnica di costruzione che è stata adottata appunto per avere queste caratteristiche del perno. Completamente flottante, ha una compensazione radiale di più o meno un millimetro e una compensazione in flottaggio di più o meno due gradi e mezzo. Cosa, diciamo, caratteristica essenziale per andare appunto a soddisfare quelle esigenze di lavorazione di prima e seconda fase, di pre-tempra e post-tempra. Questo consente di bloccare il pezzo senza andare a vincolarlo o tensionarlo. Lo posso lavorare in completa tranquillità, il beneficio è che quando vado a rilasciare il mio componente questo non subisce ulteriori deformazioni. Questo è l'ultimo, il TDM è l'unico, è l'ultimo prodotto nato in casa OML, è stato frutto di grande studio, ricerca, soprattutto ricerca da quelle che sono le esigenze che incontriamo tutti i giorni dai clienti. Lo sviluppo spesso viene fatto direttamente presso il cliente, stiamo a ascoltare quelle che sono le loro esigenze e cerchiamo di standardizzare dei prodotti appunto per offrire e per dare delle soluzioni innovative e tecniche sempre all'avanguardia. Concludo semplicemente dicendovi di venire a visitarci al nostro stand così da poter toccare con mano i nostri prodotti, le nostre soluzioni. Siamo presenti assieme al nostro gruppo SMU Autoblock con tutte le soluzioni e novità al padiglione 1 stand di 17. Vi ringrazio e ringrazio a voi di essere venuti in Emo e vi aspettiamo numerosi. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.